Paracetamolo o ibuprofene? Il paracetamolo toglie dolore e febbre. L'ibuprofene riduce anche la risposta immunitaria perché è un antinfiammatorio. Vediamo quando prendere uno o l'altro, ma prima seguici. Influenza? Non devi spegnere il sistema immunitario perché devi sconfiggere il virus. Quindi, paracetamolo. Dolori muscolari o delle articolazioni? Quale cellule immunitarie stanno attaccando il tuo corpo? Ibuprofene per spegnerle. Il raffreddore è un virus? Paracetamolo. Se però devi fare qualcosa di importante e ti senti tutto istruito, puoi aiutare l'ibuprofene. Stessa cosa per il mal di gola, causato da batteri o virus. Paracetamolo per non spegnere il sistema immunitario. Se però sei talmente infiammato da non riuscire a mangiare, ibuprofene. Mal di denti se hai infiammato, ibuprofene. Mal di stomaco, assolutamente paracetamolo. L'ibuprofene lo può peggiorare. Mal di testa leggero, paracetamolo. Molto pesante, ibuprofene. Però ricordati che se riesci è meglio avere il parere del tuo medico. Sono consigli generali e non valgono per forza per tutti. E tu, li prendevi così?